OneTouch 803 continua la saga dei full QWERTY di Alcatel, un display da 2,4 pollici touch, resistivo, una full QWERTY, un design interessante ma soprattutto dimensioni compatte, ottima verniciatura, vari colori e il pad direzionale che pur essendo un touch ha sempre il suo perché, perché per esempio nell'806-807 non c'è il pad e qualche difficoltà nell'uso l'abbiamo trovato, invece con questo 803 viene aggiunto il pad, qualche caratteristica in meno ma questo fa sì che sia molto più comodo da maneggiarlo, vediamo in molti colori differenti.